Cari amici, benvenuti a un'altra puntata della reazione dell'americano. Oggi non faccio reazione, vi chiedo che filmate una petizione. Vi faccio sapere cosa è successo. Oggi in Canada abbiamo scoperto 751 tombe anonime di bambini indigeni del Canada. Questo segue le 215 tombe anonime scoperte due settimane fa. Questi bambini sono stati presi con la forza dai loro genitori e inviati alle scuole residenziali. Questo è successo tanti tanti anni fa. Queste scuole residenziali erano gestite dalla Chiesa Cattolica. E' una parte oscura della storia del Canada, eppure della Chiesa Cattolica. E' una macchina nera su di noi. Sapevamo che il passato del Canada aveva un problema con le scuole residenziali, e ora stiamo imparando che è peggio di quanto mai immaginato. Anni fa a Papa Francesco fu chiesto dal Primo Ministro del Canada di chiedere scusi per questa tragedia, e invece hanno trovato scusi per non farlo. Oggi vi chiediamo al Papa di fare la cosa giusta e di chiedere scusa alle comunità indigene del Canada. Quello che è successo era un genocidio. La Chiesa deve chiedere scusa per i suoi peccati. Per favore, firma la mia petizione chiedendo al Papa di fare la cosa giusta e di venire in Canada e parlare faccia a faccia con la comunità indigena. La petizione è disponibile sotto nella descrizione del video. Grazie amici, ci vediamo presto. Ciao.